Previsioni meteo per mercoledì 5 aprile. Al nord ampie schiarite in avvio di giornata con passaggi soleggiati, note instabili pomeridiane su alpi orientali. Al centro spiccata variabilità con rovesci sparsi su zone interne e dorsale appenninica, più soleggiato sulle coste ed in Sardegna. Al sud nuvolosità variabile associata a rovesci sparsi su regioni adriatiche ed alta Calabria, più soleggiato sulla Sicilia. Venti settentrionali, meridionali con rinforzi sulla dorsale appenninica. Mari da mossi a molto mossi. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento.